Allora è finita bene l'avventura di alcuni ragazzini che si erano dispersi. Sono scesi dai piani d'Erna, hanno sbagliato due o tre volte il sentiero, si sono infilati in una forra, per fortuna hanno avuto buon senso a un certo punto di fermarsi e di non muoversi da lì, di mandare aiuto, solo che non sapevano darci indicazioni sul posto dove erano, per cui abbiamo dovuto rastrellare un po' la zona con quattro squadre, finché alla fine abbiamo individuato il posto e li abbiamo recuperati. Allora erano quattro? Erano cinque, quattro da una parte del fiume e un altro che era rimasto dall'altra parte del fiume, anzi in realtà allora quindi erano sei, di cui uno ha raggiunto la Stoppani e Versasio ha dato l'allarme, solo che non sapeva da che parte erano scesi i suoi amici, per cui in una prima indicazione ci aveva dato il passo del cammello, per cui siamo dovuto girare lì, non trovandoli lì abbiamo dovuto girare un po' tutti i canalini e i canali della zona, poi piano piano, per fortuna eravamo in contatto telefonico, siamo riusciti prima a capire su che versante erano, poi abbiamo fatto salire una nostra mezzo insieme a quella dei Vigili del Fuoco, sulla strada per Morterone, grazie ai lampeggianti e alla fotocellula abbiamo capito dove erano e quindi poi siamo riusciti a recuperare. Quindi sono stati decisivi i telefonini? Questa volta sì, come sempre. Ultima cosa, quanto personale, quanti volontari, quante... Dunque una decina nostri e 5 o 6 dei Vigili del Fuoco. Grazie.